parara 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 allora raga quinto game per favore fateci una draft decente perché veramente gli occhi hanno bisogno di supporto oggi non switch con un engage e non twitch collector primo item segnato credo si possa fare più creatività di così no si può io ho paura per quello certo il game 5 quindi vada come vada va come la barca e dentro e dentro che fuori chi c'è c'è chi non c'è non c'è giusto qui parti scherzi si tira avanti una partita è una serie molto importante e continuiamo a sottolinearlo quanto sia importante non solo per la questione del ok proving grounds ma anche perché chi vince questa partita possibilità di salire per il regressione fn diretto con la vittoria di questa serie altrimenti le andevole dall'altra parte devono vincere anche la finale di situazione difficile a questo punto della serie perché per risolverla c'è bisogno di una un colpo di reni degli underworld e puntano ancora a fare una draft che va sulle side oppure le fn che riportano nella loro zona di comfort di avversari dipenderà tutto da questa draft perché nella partita scorsa le fn non hanno giocato male si stavano basando troppo su jace questa cosa gli ha dato forse contro nei teamfight finali jace un gran pic da da confermare secondo me in questo senso ci sono comportati assolutamente in modo sensato in per quanto riguarda la mid lane assieme a se giovanni probabilmente le due situazioni più solide della draft away from normal però poi provano cose sportive che però difficilmente abilitati cioè mesi abilitati non credo che la canna sia la scelta più efficace visto vista la componente anche avversaria su quel twitch e a questo punto ha avuto degli shutdown ha avuto dei reset non sufficienti però per poter tirare dritto quando poi dall'altra parte una tristana una tristana resetta molto più velocemente di un twitch si fight a molto meglio e soprattutto troppo semplice il come vuole andare a giocare intorno ai navori poi può andare con un campione che può giocare side quindi può metterlo in mid lane a questo punto forse di servargli un ban però riapri tante opzioni tipo serafin non lo so non lo so qui o c'è una draft molto simile a quello che abbiamo visto oppure non c'è un cambio di uno o due campioni ma c'è un cambio di tutto la draft perché ci sono pin pic e ban totalmente diversi che riaprono tante opzioni che fino ad ora forse non abbiamo ancora visto qui c'è bisogno di showare tutto ripeto le blank mai mai vista né in pic né in ban ad esempio nico nico l'abbiamo visto ci sono tantissime opzioni in giungla stiamo vedendo tanta monotonia ad esempio viego maokai sejuani viego maokai sejuani vero vero ma in giungla posso capire perché sei un po costretto dal meta e ti porta un pochettino al soprattutto con viego a soffrire tanto se vuoi prendere un campione carry vuoi cercare di mettere il carry da un'altra parte della mappa però vedremo se la scelta di mettere un altro carry nella giungla può funzionare vediamo se un altro tipo di team fight se rimettere open kaisa potrebbe funzionare il fatto è che fino ad ora le fn si sono un po rovinati da blueside perché hanno detto noi bagniamo kaisa quando in realtà avrebbero potuto tranquillamente lasciarla open e piccarla in b1 sarebbe stato molto più funzionale sì la verità è che ci stanno essendo tantissimi tantissimi non detto che mi fa strano alistar poteva giocare un alistar con quel twitch molto tranquillo molto efficace che ti permettesse di applicare quei danni in tranquillità nautilus vero devi scegliere così tanto rakhan di per sé non è un campione che è estremamente resistente ha altre qualità e correll open dall'altra parte correll 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 open quindi non lo so non so che cosa è preso agli away from normal underworld invece complimenti per il pick finalmente la tristana ci dimostra che non puoi ignorarla non puoi lasciarla fuori e diventa una cioè avere tristana mid così efficace in questo momento ti permette di avere una combo da anche doppio tiratore che ha una capacità da scendere incredibile io non vediamo ivern non vediamo ivern ivern è il doppio tiratore no allora ivern ti stai prendendo comunque un rischio eh perché diventa un jungler di supporto comunque bannati i pick forti adesso quinta ultima draft della serata alla fine pick che vanno verso la direzione che abbiamo visto anche prima ancora GP di Michelazzo che ci ha fatto vedere tante cose con questo campione e rimarranno in circa simili a questo punto un bando di rispetto allora l'FN è qui devo scegliere perché o lasciano open Serafin oppure Tristana il fatto è che addirittura dall'altra parte vanno a eliminare Sejuani mi piace tantissimo questa scelta e quindi ora la situazione si rende molto più difficile proprio da red side che è il side scelto dall'FN fra le tante cose alla fine Serafin e quindi qui c'è uno spazio importantissimo per Tristana una cosa che non abbiamo specificato è che gli away from normal stanno giocando a 4 game Sejuani giungla sto ricontrollando le tabelle 4 game su 4 Sejuani giungla vero qua si fa capire che gli Underworld vogliono costringere Exos su qualcos'altro primo pick però degli Underworld è Miss Fortune andare di Ziggs potrebbe portare potrebbe portare più che altro a avere un campione che ti dà con tanto range cercare di poccare Miss Fortune vedremo se si può andare a inserire anche il corsia centrale a questo punto Ziggs che rimane un campione che in questa serie ci piace o no rimane fondamentale è di un pick or ban un take away anche fra l'altro fondamentale a questo punto per andare a uscire al giungla oppure a questo punto un Jace che ti ha dato tanto Misterias ha bisogno di essere riconfermato con questo campione perché si era l'unico che manteneva in piedi le FN nella scorsa partita ed è bisogno di andare a giocare con quello Misterias che era on fire e ha bisogno di riconfermarlo con lo stesso campione qua c'è un altro ban assente qua c'è un altro ban assente io a questo punto credo che avrei preferito piccare Seraphim bot pur di avere del danno a P bannando Gwen piuttosto che bannare Seraphim e ritrovarmi in Gwen's jungle perché? perché? dove hai i salti in aria? allora allora ci sono tanti allora in primis secondo me è il suo mid comunque e quello ci siamo quello ci siamo FN che riconfermono alla fine il nuovo Rakan che non ha giocato alla fine un brutto game c'è sempre Gwen dall'altra parte che gli va a dare un fastidio enorme quindi FN che vanno a sbagliare secondo me anche questa cosa dall'altra parte potrebbe essere un Jace che è in corsia superiore a questo punto per mettere un Akassio in mid a questo punto potrebbe essere funzionale oppure Talia perché no bannirel che però qui come è strano prendere Yasuo giusto Rakan con dei ban che vadano a coverare quel campione preso in R3 quindi per ora alla fine almeno su questo l'idea è giusta davanti a loro dovranno esserci jungler in teoria dal lato Underworld perché comunque c'è una Gwen che mi aspetterei in giungla a questo punto ha giocato bene FN con questo campione mi aspetto di nuovo Gwen in giungla sì a questo punto io direi che non c'è molto spazio per lasciare delle ipotesi tuttavia tuttavia flex è un flex quindi io non mi lascerei ingannare dalla possibilità che gli Underworld stiano proprio giocando attorno a questo non detto ultimo ban blue side per questa partita e poi stavano finite le chance per poter eliminare campioni problematici dalla draft ban di Kindred dopo aver visto Rell e Nautilus dal lato away from normal vediamo l'ultimo ban se si interesserà alla top lane ancora ah allora qui ci sta capisco l'idea del voler eliminare Malfight dall'altra parte per andare a coverare più che altro Miss Fortune il problema qual è che di nuovo ti sei elevato un un counter di Jace è quello il problema più grande quindi non lo so ci sono dall'altro piccoli errori Tristana open Tristana open capisci quante cose stiamo aggiungendo che possono essere considerate effettivamente errori di draft qui più che altro se costretta andare a prendere salti in aria quindi ci sta andare a prendere Orn almeno anche un alto scaling un'ottima accoppiata anche con Miss Fortune e manca poi il support support già elevata Nautilus eliminato anche Rel eliminato anche Rel deve andare a prendere Alistar penso sia forse l'unica opzione Gianna non penso voglio tornare di Gianna Alistar è più funzionale allora Alistar quindi e Miss Fortune saranno la botlane di questo ultimo game Underworld con Orn Top Gwen Giungla Yasuo Midlane Randall rivelata finalmente alla giungla degli Away From Normal con Sion Top Jace Mid Ziggs e Rakan in botlane un campione che va a prendere delle resistenze però comunque c'è Gwen che con i suoi danni va a superare le resistenze è difficile però comunque può essere un matchup che Nelly può dar vantaggio a Trandul appena arriverà a livello 9 livello 10 11 con il doppio level up della Suprema lì il matchup inizia a tendere dal lato di Gwen dipenderà tutto da reti infetti vogliono creare gli Underworld se riescono a far funzionare Yasuo hanno praticamente il game altrimenti ti troverai in situazioni molto scomodi in cui dall'altra parte c'è il Sion che pusha dall'altra parte c'è Jace che vuole splittare sono tanti elementi in più che se non riesci a far funzionare dal lato Underworld da tutto a favore FN perché quel Sion è di là si vuole ragionare per front line perché con Trundle vuoi rompere quelle difese e le puoi rompere utilizzando la sua Suprema quelle difese sono insite in Horn e Alistar per definizione ci saranno altri tipi di strategie che potranno utilizzare un Horn full AP o un Alistar di qualche strana serie quindi in quel caso tu utilizzi Trundle per andare a prendere quelle resistenze toglierle e speri a questo punto che i tuoi carry facciano il loro lavoro Trundle compreso si spera perché altrimenti qui la situazione poi diventa abbastanza difficile perché poi c'è Trundle c'è un Jace che può farti male ok con Yasuo poi bloccare le shock blast vero però comunque Jace può farti del danno sostenuto anche dopo il Windwall può superarlo tramite la forma martello a vari metodi ok però Yasuo comunque giocato molto bene il Windwall può andare a bloccare tanto della composizione avversaria e comunque c'è anche Miss Fortune da dover rispettare in questa equazione siamo in partita quinto e ultimo game della serie della giornata con questo game scopriremo chi sarà la squadra finalista che si scontrerà contro i Novo in finale Proving Grounds signore e signori benvenuti nella landa degli evocatori le bet sono state fatte e io spero che voi abbiate scommesso bene allora setup molto standard alla fine con Miss Fortune letalità quindi con First Strike ho riprovato Miss Fortune se non si vuole andare First Strike si può andare anche Dark Harvest piccolo aneddoto che può funzionare sicuramente molto bene e ti permette anche di scalare meglio però comunque First Strike se ti ci abitui è una ruola comunque molto molto utile First Strike che non arriva per Mysterious con lo scatto fasico per cercare questa volta più che altro di kaitare al meglio negli fight prolongati Spellbinder con Yasuo che con il letal tempo vuole stare lì e ad attaccarti fino alla fine si parte dal ok dal red side per Gwen mentre si parte dal blue side della giungla per Exos vediamo ora che cosa faranno i due jungler vediamo che smite è già utilizzato da Gwen quindi potrà andare un po' più velocemente verso la prima pulizia potrebbe magari cercare un primo gunk in middle in bot lane per eliminare qualsiasi tipo di offensiva sui controlli avversari grazie alla sacra nebbia yasuo yasuo qua con spellbinder mi fa riflettere perché un campione mobile come lui può veramente essere problematico da gestire per misterias che ha bisogno di setupare l'ondata ha bisogno di avere un corridoio su cui agire se yasuo riesce a gestire bene l'ondata potrà tranquillamente muoversi quasi dove gli pare vedremo anche dove vorranno cercare i jungler un'azione sulla mappa perché sembrano andare tutti verso top lane exos che però viene visto viene esplottato anche se c'è da dire che fin ci ha fatto vedere anche prima come nei primi livelli vuole semplicemente scalare verrà anche fra l'altro visto dalla lume che si trova in top lane e vuole semplicemente stare lì come la stessa cosa vorrebbero fare entrambi i top laner con un zino che può anche giocare tanto side come abbiamo visto prima a parte invertite situazione ora che si installa si installerà sicuramente nei primi livelli e vedremo se si riuscirà a sbloccare almeno dal livello 6 in poi entrambe le squadre c'è da dire una cosa importante che non abbiamo sottolineato fino ad ora dov'è la skin di Alistar male male ma diciamo che aver atteso fino a game 5 per vedere chi sarà il finalista anche lì non è proprio il massimo dell'eleganza qua ci sono state tante opportunità per entrambi i team di rimanere risoluti e spesso non sono state colte vero vero anche nel game di prima in prima con la draft in modo diverso dell'fn avrebbero potuto fare sicuramente tante vediamo forse spottano fin andare verso lo scatto in corsia inferiore potrebbero trovare un early fight rischiano però anche 2v1 Yasuo si allontana prova a cercare un altro modo per ingaggiare lo segue Omulfin ma si ritirano nulla di fatto c'era comunque priorità lato Underworld quindi devi andare a rispettare questa cosa con una miss forte in first strike dà sicuramente tanto tanto fastidio anche se c'è stia sicuramente facendo il suo con questo tipo di campione Finn che ora si trova in botrain cerca di dare una mano arriva anche exos 2v1 arriva al terzo undefined pochi hp usione utilizzata è sotto visione flash in gg però non può avere così tanta gittata infatti alla fine non ha lì fatto flash che volano partita che inizia in un modo teso tanto tantissimo anzi che rimane appena l'ora non risoluta è solo l'inizio ancora ci hanno fatto vedere quanto del game sono abbastanza statici questa serie proprio per cercare di tornare lo spazio giusto hai comunque dell'hyperscaling o comunque dei campioni che vogliono scalare molto bene da una volta e dall'altro quindi hai bisogno di darli del tempo ed hai bisogno di a volte come in questo caso forzare sì ma non troppo corsia superiore più safe anche nella fase di teamfight mentre Sion è costretto ad andare in mezzo alla calca con tutto e per tutto vero sì anche se lo scaling di Sion ti permette poi di andare a superare anche quello di Orn vedere un pochettino come andrà la situazione perché è molto molto difficile anche andare a prevedere questi tipi di questioni qui perché si venderanno tutto dal tipo di teamfight che si è andato a creare chi ingaggia prima se Yasuo troverà lo spazio giusto il winwall giusto il bullet time di Miss Fortune giusto tante cose da andare a inserire tanti piccoli tasselli piccoli pezzi di un puzzle che sono difficili da andare a trovare ed inserire nel posto giusto ancora assoluta parità 6 minuti dentro il game ancora non c'è stata la prima uccisione quel binder sappiamo che è un elemento molto pericoloso da tenere d'occhio il primo drago della nuvola vediamo se anche questo sarà una landa così però faccia io dai un po' ci spero almeno faccio finiamo in bellezza ah finiamo in bellezza dai abbiamo fatto cavolo 4 game con un'anima in questo modo facciamo 5 game con un'anima dai che no 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 ok tu dici perché si inverti la domanda va bene va bene primo drago andato away from normal lo conquistano 4 minuti e 40 al prossimo che gli underworld potrebbero tenere per sé vista la capacità offensiva di questo drago infernale che sta per arrivare undefined ha rommato in giro per la mappa già diverse volte guardiamo il suo posizionamento è molto importante anche per accompagnare Gwen verso questo verso questa scalata perché alla fine quella di Gwen è una scalata verso i 2-3 oggetti si per forza hai bisogno di dargli il tempo almeno prendere un primo item per iniziare a fare qualcosa si affacciano in mid lane 2v2 prova l'ingresso comunque cerca Gwen arriva trando il 3v2 vantaggio numerico away from normal comunque non continuano però servirà tanta proattività loro lo sono e away from normal stanno essendo un po' timidi mentre gli underworld molto sicuri di sé tanto per ora però alla fine azione più che altro poteva andare sicuramente meglio forse il pilastro non è una perfezione ma comunque abbiamo detto partita tanto e si vede provano 3v2 sbalzato in aria exos allontanato vediamo se riesce a mettere un pilastro magari infastidire la compagine avversaria ma sembra impossibile quindi poi alla fine utilizzata alla perfezione però comunque priorità in teoria dell'fn che vanno andare vanno verso il primo messaggero della landa dopo aver preso anche il drake quindi solidità sull'obiettivo importante ancora una volta nel frattempo la priorità sul messaggero sembra averla gli away from normal che ora la camera c inquadra per sul punto di eliminare e collezionare questo messaggero argogranchio anche lui nella nella lista di cose da fare the way intercettato dalla suprema primo colpo di torre nella to do list famosissima to do list la famosa si to do list flash out invece la testata è ottimo qui perché alla fine poteva essere un ingaggio importante non sapevi informazioni più che altro sul jungler che di fatti era lì quindi giusto andare a rispettare continuo ad essere una partita assallata continuo ad essere una partita tesa continuo ad essere una partita in cui è difficile trovare spazio se non ora forse perché non di find è primo sangue misterios difficilissimo sopravvivere a questo posizionamento criminale che non poteva avere alcun esito se non questo nessun rispetto qui della visione e delle informazioni che avevi sull'avversario che poi t'hanno completamente chiuso non avevi la suprema per tancare si fa sentire anche la stanchezza la sentiamo noi figuriamoci loro che giocano perché è ovvio arrivi a un punto in cui questo inizia ad essere un dettaglio importante le hanno perché stanno facendo una run difficilissima vincono il primo e il quarto game quindi devono reggere due game di sconfitte anche molto difficili è contosta la situazione allora allora abbiamo un campione su cui il collector primo item ha senso cioè miss fortune quindi ok lo accetto va bene così non è twitch diciamo che la partita è ancora presto ancora in uno stadio iniziale quindi tutto può cambiare ma vediamo che cosa succederà perché Zewi ha tanto kill potential in questa fase e assieme ad Alistar tanto tante azioni sono viabili ma è ancora presto per dirlo pink min e gg stanno provando a tenere le distanze cosa che invece non riescono proprio a fare i mid laner anche se collector into due tank considerando anche trundle è un po' un rischio potrebbe essere un rischio anche qui a parte inverse come il rischioso spellbinder qui exosso si espone con spellbinder che è decisamente troppo distante flash out con il morso evocazione di dio della forgia non trova exos ma viene preso di mira sono in tre lo raggiunge anche la top lane con la testata sbagliata di sion prende la vita di exos spellbinder ha investito il flash ma se ne è tornato a casa con una kill più che valido ora devono provare a sistemare il loro e l'orrori a away from normal e provano ad andare sulle placche troppi errori anche dal lato fn partita che inizia subito sporca non devo andare così il fight potrebbe essere molto e potrebbe essere gestito meglio più che altro con questi fn però si trovano molto chiusi rispetto agli avversari c'è comunque quel deck a disposizione pian piano c'è bisogno di andare verso quell'obiettivo quando ritorni in base dovrebbe aver chiuso il dente già di nashor e vedremo se riuscirà a dare priorità a quell'obiettivo trandolo anche ci si avvicina sfruttando anche ovviamente il messaggio della land evocato in corsia centrale le placature potrebbero andare proprio anche a Mysterious nel suo inventario guarda gli HP spellbinder potrebbe essere una preda interessante per gli away from normal che però prioritizzano il secondo drago undefied nella zona omulfine potrebbe entrare in qualsiasi momento pink minora deve infastidirli utilizzare il bulbo esplosivo per disingaggiare il bulbo quindi rischioso anche perché gli underworld potevano andare a fare molto di più ma si sono tirati troppo indietro hanno preso un drake ma alla fine sono rimasti lì ed ora addirittura rischiano di essere gridi nella propria giungla exos così tanto in profondità contro un una guen teletrasporto vediamo se riescono a prenderli o comunque prendere vantaggio strutture importantissime vediamo come le gestiscono l'ondata hanno investito così tanto ma tutte le corsie sono in slow push forse la bot lane è quella meno presa da questo momento guarda spellbinder arrivano i danni misterious prendono la prima struttura away from normal bonus di gold e adesso gestire la bot lane che è sotto minaccia stracombattuta qui comunque c'è un leggero una leggera presa di posizione da questi fn che continuano a muoversi continuano ad andare e prendere comunque strutture e lasciano il drake ma poco importa situazione qui difficile andare a prevedere anche in questa partita non è difficile trovare un appiglio perché più che altro gli under sappiamo quanto fin poi in queste partite abbia capito l'early non posso vincerlo voglio un campione che scala va benissimo due volte quello prima ha funzionato ed ora prenderà e scalerà la grande c'è spellbinder che ormai i fratelli vanno di teppese impietuosa di gale forse ormai è una build che conosciamo quasi tutti ripeto è così tesa la partita che dipenderà tutto dal come verranno gestiti meccanicamente i file preparano un dive in top lane questa è la ricetta perfetta vediamo se Matteo riuscirà a sopravvivere il fatto che senza torre posso l'ultare via addirittura farsi prendere in questo modo prova a proxare l'ondata forse la scelta più saggia in questo caso quando sai che non puoi farci nulla e comunque la torre non l'hanno presa quindi win win e non ne muore fra l'altro scappa e da tempo fa perdere tempo e gli FN vanno a prendere la torre in corso inferiore quindi in realtà ha uno scambio strafavoribile per loro si muovono in mid lane in Zew si sente un po' puzzi di bruciato per tante visione e quindi non ha rifatto per le azioni che voleva andare a creare però comunque c'è un messaggio tra l'alanda gli FN possono muoversi verso quella direzione guarda però fin dove si trova vuole fare una sorpresa agli avversari vediamo se ci riesce lo svantaggio numerico non lo aiuta però potrebbe trovare magari un'opportunità vediamo come si muovono il resto degli underworld in cui potrebbero cercare di fare una chiusura a panino come già la conosciamo Linkmin potrebbe essere il primo rischioso prem up vediamo chi riesce a prendere quell'occhio del messaggero evocazione del dio della forgia vanno in Mysterious prova a trovarlo Stasi per salvarsi la vita Undefined purtroppo riesce a sopravvivere con pochissimi HP quelli che bastano però per prendere Rakan e ora continuano a stare sotto la torre e questo momento è decisivo Michellazzo guarda quanta vicinanza Mysterious preso di mira va in Zewe vanno a prendersi chili importantissime vanno a prendersi la torre vanno a prendersi no il messaggero non è arrivato però comunque hanno fatto perdere tanto tempo vedremo più che altro e vanno più che altro a prendere tantissime risorse vedremo se riusciranno a sfruttare al meglio questo messaggero perché è l'unica cosa che sono riusciti a prendere in cui sono tinfetti le FN e guarda a livello monetario dopo quello che abbiamo visto c'è un leggero vantaggio Underworld non è così chiaro non è così predominante e comunque a breve arriverà anche il primo Drake della nuova anima e vedremo qual è il team che andrà a priorizzare prima questo tipo di obiettivi perché comunque sustain che vuoi avere sia da un lato che dall'altro parte i gold ha evitato il decimare ma anche rallentato il recall il suo incursio superiore sta perdendo un po' di tempo con queste azioni e tempo prezioso che voleva utilizzare per tornare in base ricordiamocelo ora away from normal un po' spaisati li vedo un po' poco concentrati mentre Underworld da questo lato stanno effettivamente performando meglio mentre si a FN ricordiamo hanno voluto mantenere questo red side quindi qual è il loro piano non lo so ora il piano si dovrà far vedere perché ora arriverà il Drake ora si trovano lì prendono già spazio posizione e vanno anche a mettere visione però non troppo profonda quindi non sanno bene le informazioni degli avversari Matteo vuole cercare il flank più che altro e vanno a fightare forse cercano di tenere gli avversari lì situazione stratesa parte Finn ricamo fatale con sacra nebbia proteggerla non abbastanza fa un po' di solletico ad Exos che comunque lo recupera con qualche frutto mieloso cercano di attaccare in flash trova lo spazio in aria lo shutdown lo prende Matteo e adesso possono provare ad essere ancora più fastidiosi preso solo Matteo e sbalzato in aria ma poco male evocato il messaggero in mid lane per la T2 quella fastidiosissima seconda torre che gli away from normal spesso non riescono a raggiungere ora il drago il loro obiettivo Homolfin li sta tirando a sé in modo tale da neutralizzare quel messaggero e però regalare quasi uno shutdown che però non era ancora arrivato ma sicuramente hai messo fuori gioco il jungler e questo è Drake le FN che con un fight ribaltano tutto partita che continua a essere non tesa di più e soprattutto incerta continua a non essere imprevedibile perché vediamo da un lato comunque ci sono quei due Drake no? c'è un Sion che sappiamo scalare grande ma dall'altra parte c'è Yasun che però ha un setup buono ma non riesce ad essere sempre funzionale c'è una Gwen che comunque scala ma attenzione perché se continua a morire in questo modo se continua a far perdere tempo c'è comunque un Sion dall'altra parte che ti tanca addosso e tanca anche tanto è una situazione difficile cioè qua si tratta di prendere le decisioni giuste qua la partita è in bilico e l'abbiamo visto l'abbiamo visto e come si posizionano gli AFN a volte tendono ad essere poco creativi e Underworld stanno leggendo il loro stile l'hanno già visto e non sembra star cambiando granché cosa che li rende facili da gestire e credo che gli Underworld stiano proprio facendo questo sì sono completamente d'accordo perché le AFN hanno mostrato sempre una bella linea no? e ovvio come possiamo leggere noi anche i coach sanno questa cosa e si muovono in questa direzione e anche i players questa cosa quindi dopo che ci è sbattuto la testa perché comunque le AFN sono dirompenti anche se li conosci però dopo un po' che inizi a sbattere la testa capisci che lì c'è un muro e devi cercare di fare un'altra strada è quello che stanno cercando di fare le Underworld sono usciti i game di prima devono provarci in tutti i modi in questo game però qui è ancora più difficile perché è ancora più tesa ci sono ancora molti nodi che non trovano soluzione finché non arriveremo più che altro ad un'altra in altri 10 minuti di game perché la partita è molto tesa e non si faita più di tanto invece c'è bisogno di aspettare c'è bisogno di arrivare proprio i spike per faitare quando ne hai effettiva possibilità delicato delicato il momento torniamo in partita per vedere come andrà che cosa succede e soprattutto quale piega prenderà questa partita mille gol di differenza non è nemmeno un dato da poter commentare vista la poca rilevanza in questo momento mille gold distribuiti un centinaio a testa forse anzi come vediamo dal tabellone i carry in bottle e Miss Fortune detiene la maggior parte probabilmente di questi soldi in vantaggio ma quando parliamo di vantaggio dobbiamo considerare le strutture dobbiamo considerare il modo in cui si stanno muovendo pensiamo al barone che è disponibile e quello sta diventando un oggetto di interesse non da poco però qua bisogna ragionare soprattutto anche attorno alle torri ha il free normal in vantaggio si continua a stallare per le torri per forse a questo punto per quanto si stia stallando penso anche a questo punto il drake sia il prossimo fight in cui si fighterà più che questo baron perché vediamo tutte e due le squadre concentrati molto sul accumulare risorse e quindi non vediamo lo spazio per dire è una partita accesa fight su fight si fight e posso andare subito per il baron grande world con uno start criminale su questo baron rischiano veramente tanto anche Zewi qui rispetto deve esserci e di fatto disingaggia al limite per riuscire a trovare magari quel pick fuori posizione quella giocata che ti fa avere accesso ad un obiettivo molto importante ora stiamo vedendo che la top lane sta avendo una partita a parte con entrambi i giocatori che hanno il teletrasporto quindi potranno andare ad aiutare i propri alleati in qualsiasi momento la visione è leggermente a favore degli underworld che sono riusciti a metterla anche più profonda oltre la tana del barone ma guardiamo anche la top lane che non riesce ad essere lasciata open e gli away from normal stanno provando a spingerla ma difficilissimo avere accesso a quella struttura che come possiamo vedere dalla parte degli hp è stata a malapena considerata e ciò permette di avere una visione molto più tranquilla per gli avversari per andare verso gli obiettivi perché comunque c'è una torre in meno presa quindi il problema sarà più grande però quella bot lane comunque è molto manca veramente poco quindi può andare a ricreare più che altro un pareggio barro che come abbiamo visto non non si sta muovendo cioè non si sta muovendo verso quella direzione si sta andando più che altro sull'accumulare risorse partita che continua a essere installata e continua a non risolversi con nulla si risolverà ripeto quando si arriverà al prossimo drake entrambe le squadre vorranno fightare e lì allora si troverà la soluzione per dire ok c'è una squadra che è in vantaggio oppure no che altrimenti qui si legge in vantaggio underworld ma anche lì è veramente minimo tutto tace uso la mia formula magica vediamo se succede qualcosa perché non sta veramente succedendo niente 8 kill 22 minuti anzi 23 due draghi per gli away from normal leggero vantaggio di strutture ma sappiamo che è veramente semplice sostenere questo o meglio è molto difficile prevedere chi riuscirà a prendere un vantaggio sostanziale di solito quando queste partite si fanno attendere in questo modo si risolvono in tempi veramente brevi quindi sono curioso di vedere questi tempi brevi quando ci verranno conferiti per vedere che piega prenderà di solito tempi brevi dall'ultimo team fight che di solito è quell'unico slash due team fight che vedremo da ora fino alla fine potrebbe essere in realtà c'è questa possibilità non non escludiamo però dipenderà tutto se a breve con il prossimo Drake si sbloccherà qualcosa perché se anche lì si lascia l'obiettivo si lascia la soul point oppure dice vabbè adesso ho già due Drake lascio il Drake all'avversario inizia ad essere ancora più difficile provano già a sbloccarsi provano a sentirsi in corsia centrale considerando anche la possibilità di un Baron che ora inizia a farsi più opprimente più pesante il Baron che dice ragazzi io sono qui vorrei essere conquistato sì diciamo che il Baron non apprezza essere ignorato così tanto per così tanto tempo e non è non è cosa non è non è educato in tutto ciò provano di nuovo a premere verso la mid lane quando non c'è nessuno ad occuparsi della top lane quindi qual è il piano degli away from normal vogliono fare uno sneak Baron o no perché c'è un wolfie in direzione e nel frattempo il prossimo drago sta venendo praticamente farmato senza essere minimamente visto dagli Underworld vero e ora si trovano lì però dagli FN il Drake viene preso e loro vogliono andare verso il Baron vogliono rispondere che l'asso li tiene distanti Undefine dall'altro lato molto buona la chiusura Underworld riescono a inserare il barone ma forse era un bait Exos flash out prova a difendersi Matteo gli fa guadagnare tempo sfrutta i suoi HP si tanca il ricamo fatale andiamo nella parte superiore Undefine prova a mettere quel momento per il bullet time e Zewi prende la kill DP su Pinkmin shutdown su Yasuo uno per uno e alla fine ancora partita che non si sblocca Baron non conquistato FN che comunque con uno scambio vanno a prendersi almeno la soul pointer per questa partita continua a essere tesa continuano a sbloccarsi e continuiamo a ritardare il momento in cui si sbloccherà del tutto vengono visti però ora gli Underworld gli FN sono molto più agguerriti di prima ora molto molto più agguerriti di prima vediamo adesso che cosa succede Mysterious prende Undefine potrebbe essere l'inizio ci sono rotti i ghiacci grazie per aver iniziato il barone Underworld vediamo se Omulfin potrà dire qualcosa Smite Up da dire assolutamente Undefine non disponibile Spellbinder che torna in posizione per essere presente grazie al teleport potrebbero andare proprio su di lui da solo d'altra parte perché non approfittarne controllo pilastro michellazzo flasha oltre il muro non si farà ingannare da tutto ciò Exos a la Suprema ancora Up Continua adesso una partita senza fine non ora possono aversi il barone in realtà comunque vediamo Sion già recollare e ormai sono tutti up anche anche gli avversari da rispettare comunque una quale che ha già due item e uno Yasuo che sta andando verso il terzo ora però si muovono ancora verso questo barone e quindi più ci avviciniamo alle non prese del barone e più continuo a ripetere il fatto che ci si sbloccherà per il prossimo Drake l'avevo detto tante volte però a questo punto si perché si è fightato comunque prima ma non li chiede si è continuato a fightare non li ha fatto niente baron e bisogna aspettare il 2.40 per l'anima per gli FN perché comunque è l'altra parte gli Andro devono perlomeno bloccare tamponare la presa di cui si obiettivi intanto la torre non fa mai male parità di torri quindi l'unico vantaggio oltre ai draghi che potevano avere away from normal adesso è stato pareggiato e le torri a mio avviso sono anche più importanti delle kill in questo senso gli permettono di accedere in profondità alla mappa cosa che difficile lo permetta sempre anche fare un'uccisione soprattutto se sono strutturate come quelle che abbiamo visto un po' sconnesse in giro per la mappa non non sempre efficaci come si vorrebbe ma in questo caso a FN ora iniziano a mettere un po' di visione profonda non trovano una giungla accessibile praticamente tutti i campi vuoti The Wee resta in mid lane ottimo campione tra l'altro Miss Fortune per la gestione del farming in corsia che vediamo essere sempre on point non arriva mai abbastanza in profondità quel binder sta farmando l'impossibile in tutto ciò ha bisogno poi di far utilizzare quelle risorse però al meglio la itala la grande sarà importante ci si muove ancora verso questo drake buscina la morte non viene trovato intercettato subito con gli hp scesi ma si allontana occhio al flash ok e ora vanno a pulire finalmente visione quindi sfruttano questa cosa per pulirla e potrebbero anche andare verso un baron ma è ancora rischioso perché non sei andato ad uccidere pink win devi prenderti una kill devi cercare di far qualcosina in più per il baron fra un minuto il drake potrebbero stallarla ancora di più ma per ora sembra che la situazione si sta facendo ancora in cortesa credo che gli away from normal abbiano l'obiettivo di prendere pressione ma non stanno esattamente ottenendo questo considerato che Yasuo ha avuto la libertà la libertà ricordiamocelo di farmarsi la torre top nessuno gli ha detto niente nessuno l'ha contestato 27 secondi al prossimo drago anima afn o baron beh a questo punto devi andare più all'anima quel suo sein ti serve devi morti verso quella direzione e infatti trambi i team si trovano lì potrebbe esserci anche un bait per dire all'altra squadra dipenderà come vorranno gestire questa situazione gli underworld ingaggiano per primi gli underworld stasi per exos prende tempo occhio il morso la superman viene utilizzata pochissimi hp exos viene preso spellbinder non era abbastanza il danno messo Matteo sta scendendo di hp rischia di morire da un momento all'altro l'output di danni di gg non è assolutamente sufficiente a matchare quello degli underworld e adesso vediamo cosa fanno non prendono una visione sufficiente ma quel mio frutto mieloso lo sta prendendo tutto pinkmin vediamo se basta troppa paura di mettersi in avanti michellazzo e undefine dei due elementi con più basso fattore di vita al momento continuano ancora ingaggiare in epoche hp zewe prende rakan e adesso vanno subito su Matteo è questione di tempo ultimo attacco e gwen prende la sua prima kill devastanti gli underworld fight finalmente nelle loro condizioni di vittoria e si trovano ora finalmente in vantaggio anche abbastanza sostanziale di 6.000 gold vai a bloccare l'anima per gli avversari a breve con un setup e in un prossimo fight puoi comunque andare verso il barone ed ora è molto più semplice ora è il suo same c'è i danni quanto mi piace quelli assi di mark su misfot forse non sarà la te migliore però hai bisogno di utilizzare le ballette in più volte possibile quindi mi piace quell'idea vuoi fai dare tanto ora esiste riesce a farcela nel momento di Yasuo shutdown e col controllo fisso non puoi resistere al bullet time di Zewe un'altra giocata più che favorevole per gli underworld 2x1 e ora si va al barone finalmente dopo due pick vanno finalmente ad andare si muovono più che altro verso il il barone vanno a iniziarlo ed ora gli FN devono provare a fare qualcosa qui perché altrimenti lasciano un free obiettivo agli avversari ma non posso fare nulla senza smite ah vanno ieri adesso riescono non ci senso no 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 io io no io non lo so cosa avete fatto a FN ma voi siete matti io e vi prego di smetterla di giocare a Ram mi ha fatto il pollice in su Gigi mi ha sentito bravo basta io non non no no dai non non è vero in 32 minuti tre torri in 32 minuti partita che non vuole sbloccarsi non vuole il barone ha rimesso ancora tutto in gioco perché quel vantaggio forte di Lando può darmi comunque tamponato più che altro da questo barone e ora si dovrà aspettare ancora il drake per la possibile anima ancora una volta vedremo come verrà sfruttato il baron è un copione già visto ma dipenderà tutto come verrà gestito entrambe le squadre ed è tutto un force perché c'è scaling sia da un lato che dall'altro a un certo punto di vista no Gwen fa paura ora è arrivata a tre item inizia a essere devastante ma non solo lei è quello il problema anche dall'altra parte c'è comunque Sion c'è comunque Trandor che fa tanto prendendo le resistenze degli avversari c'è Jace il Jace di Mysterious che non è da sottolotare vedremo quanto riusciranno a sfruttare questo barone perché ok l'hai rubato ma siamo già arrivati a un minuto e venti dalla fine del barone e non hai fatto nulla 1v1 Mysterious e Michellazzo vediamo come va guardiamo soprattutto ai baron perché Exos e Mysterious sono senza baron buff quindi bisogna poterli tenere up per riuscire a far effetto giustamente Matteo Splitta in corsia superiore per far defusciare l'ondata c'è la visione Exos prova a rimuoverla ma Mysterious ora è affaccendato con la gestione del top laner avversario Undefined Omulfin Zewi sono 4v4 e Yasuo e Sionos sono lì in top lane ancora a pensarci arriva un'altra ondata a favore AFN vediamo che cosa possono fare arriva un'altra torre la quarta arrivano in vantaggio 25 secondi ancora se riuscissero a prendere anche questa struttura sarebbe veramente positivo per il team sembra proprio di sì ora potrebbero cercare di andare in mid lane ma forse non ce n'è bisogno occhio a questo momento inibitor vediamo se riescono ad andare oltre alla fine non riescono vengono bloccati partite che è ancora tesa comunque dopo questa baron play ritornano continua ad essere in vantaggio l'Andeward di minor rispetto a prima continua a esserlo però c'è da rispettare comunque i side che le Andeward potrebbero andare a pushare potrebbero profitare un teletrasporto in mid lane cercano adesso il richiamo del dio della forgia doppio teleport suprema di zigze non abbastanza dannosa ma ora sono in 5v5 potrebbe essere il fight definitivo spellbinder va su Matteo che però lo stordisce con il decimare windwall ignorato d'Arakhan va in e ora provano ancora ad inserirsi undefined pochissima hp potrebbe andare in e infatti con la suprema o meglio con la stasi redenzione trova ancora gli hp mancanti drago oceanico up afn potrebbero sfruttare l'occasione per andare in tutto ancora in bilico dopo tutto questo fight ancora non è morto nessuno si muovono le fn verso questo drake il banner continuano ad aggredire con la suprema attenzione Matteo provano ad andare in pochissimi hp decimati letteralmente da Gwen che ora ha ben tre item di cui un copricapo di Rabadon dente di Nashor e Riftmaker guardiamo come si stanno danzando questo obiettivo che lazzo spellbinder undefined hp recuperati pozione utilizzata pessima suprema ziggs e ora prendono un altro drago oceanico away from normal in fuga prima a morire misterius il secondo sarà Pinkmin e non finisce qui inarrestabile l'unico modo per scappare ma stai praticamente condannando il tuo collega double kill per Yasuo e si è interrotta su misfortune 3 per 1 mamma mia le underworld soprattutto Gwen ragazzi gg non riesce a sopravvivere vediamo se andrà comunque in pazzo classica Yasuo player 5 per 1 carneficina underworld se hanno un po' di senno vorranno chiuderla e alla fine underworld che vanno e tirano dritto fight perfetto più che altro giacissimi di fin è stata per è stata geniale perché se inserita nel momento giusto quando quanto poteva e non ha sbavato cioè doveva andare a prendere le kill doveva andare a chiudere la backline c'era riuscito con 3 item scioglie anche i tank e questo è il problema di Gwen non ti importa tu quanto possa tankare o scalare non vuole altro che scaricarti i danni e buttarti giù guardiamo i cooldown fra 20 secondi arriverà il Baron c'è bisogno di essere lì e ora arrivano finalmente 10.000 quasi 10.000 gol di vantaggio molto arrotondati però è una news per questa partita molto tesa 4 oggetti Gwen aiuto qua la partita si è sbilanciata siamo al momento 59.67.000 gold siamo al momento in cui Underworld ora hanno preso una piega credo che il prossimo fight sarà veramente decisivo sono solamente le strutture ciò che allontanano i due team dall'essere ad un passo ad un passo letteralmente dalla vittoria quella torre che ha quasi sfiorato l'inibitor vedrebbe geograficamente gli away from normal in vantaggio ma quell'ondata non riesce ad essere gestita e si conta ancora tutto ciò che può ragionare attorno agli obiettivi tutto questo non è ancora sufficiente Mysterious in posizione con Edge of Night scudo extra per poter resistere Horn sbalza in area Ziggs Matteo in posizione potrebbe usare l'inarrestabile flanking in arrivo omulfin sacra nebbia sta aspettando Matteo di avere il momento giusto sta aspettando troppo deve essere la propria front line sta aspettando troppo ora i leand si muovono proprio per buscina morte prima cadere Pinkman vediamo il secondo che sta per andarsi Nexus scappa non può rischiare di morire per il suo intero team Mysterious se ne va e subito dopo Matteo questa partita è letteralmente stata condannata con questo fight nulla da fare per gli away from normal che non hanno modo di reagire 50 secondi i cooldown attuali Matteo ha probabilmente aspettato troppo per quell'ingaggio quel flank che poteva esserci chissà a livello di comunicazione cosa c'è stato siamo per avere ufficialmente la squadra che andrà in finale contro il nuovo rematch della best of five Underworld vincono le semifinali partita difficilissima stratesa fino alla fine non si sapeva nulla e le Underworld la risolvono con gli errori visti dagli avversari perché hanno fatto tanti errori le FN sarà la stanchezza infatti siamo un quinto game è tosta la situazione però c'è da dire GG Underworld qui finna ha fatto una grandissima giocata Matteo ancora non ho capito perché non ha flancato prima a quel punto vai buttati prova ma ingaggia tu non farti ingaggiare dagli avversari perché poi non era più gestibile Yasuo non era più gestibile Gwen non era più gestibile Miss Fortune dopo non potevi fare più nulla GG Underworld impossibile impossibile gestire questa squadra che ha fatto tutti i comeback del mondo è riuscita a emulare letteralmente il proprio avversario storico e questo avversario è stato tremendo perché aveva vinto il primo game poi persi i due successivi vinto il quarto e si andava al quinto e questa volta gli Underworld hanno fatto esattamente lo stesso percorso di nuovo la stessa run quasi la stessa run qualche game swappato ma insomma siamo lì comunque un 3 a 2 e questa volta però te lo sei portato a casa convincente nì c'è tanto a lavorare assolutamente sì è fan che ancora non sono fuori a livello matematico c'è ancora possibilità per loro nel caso in cui gli Underworld non vadano a vincere la finale quindi anche per loro c'è possibilità di arrivare effettivamente a relegation dipenderà tutto da quella finale dipenderà tutto dal come andando a giocare la finale dal come riusciranno gli Underworld a battere i nuovi uomo perché è uno sconto ragazzi difficile per loro se portano questo livello di gioco con così tanti errori i uomo si svegliano con la con la vena sbagliata è devastante ma tutto è disponibile perché gli Underworld hanno fatto un percorso solido e si confermerà con la partita di oggi che apre loro le porte alla finale contro i Novo abbiamo un'intervista per parlarne con noi Michellazzo yo Michellazzo ma sei sempre qui spiegami 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 questa serie è perché nessuno di miei teammates vuole andare eh ma lo so lo so che tu sei qui per noi e per raccontarci com'è andata questa serie perché primo game li abbiamo visti solidi game due tre è successo qualcosa cos'è andato storto penso che l'early game sia andato male quindi il game era molto difficile da lì in poi semplicemente abbiamo gridato un po' troppo in early game poi in game 4 e 5 ci siamo focussati ed è andato molto meglio tra l'altro ti hanno ti avevano messo allora la tua fiora nel game 1 è stata veramente preziosa super super on point cosa che poi avevate riprovato a portare in game 3 e non ha avuto esattamente lo stesso esito non ho fatto tempo a scavare eh non hai fatto il tempo infatti poi avete giocato su qualcosa di un po' più confortevole sul Sion su qualcosa che potesse dare effettivamente un po' più di front line facile cioè nel senso muro di carne tanto avevate posizionato i carry in giungla in mid lane a seconda della partita la verità è che adesso c'è un rematch delle semifinali come ti senti? ma sinceramente bene il ricordo perché ricordando anche il round 1 i quarti cioè game 1 l'abbiamo perso ok il game 2 l'abbiamo perso ma era praticamente vinto se non trollavamo game 3 e 4 l'abbiamo vinti anche di un bel po' game 5 era super close cioè quella serie doveva essere un 3 e 1 realisticamente se non trollavamo così tanto quindi siamo chill se giochiamo focused dovremmo essere più forti di nuovo to be honest vi avete già portati al game 5 e nulla ci fa pensare che potrebbe andare diversamente questa volta anzi la voglia di vincere c'è voi avete fatto il doppio della fatica oggettivamente perché siete passati per questo loser bracket e ancora una volta vi ha messo alla prova ma voi rimanete forti rimanete steady c'è qualcosa che vuoi dire agli nuovo prima della finale buona fortuna intanto semplice efficace intanto iniziamo così è stata già una serie abbastanza impegnativa quindi michelazzo io ti ringrazio per questo tempo congratulazioni ovviamente per la vittoria e scopriremo il giorno della finale se ci saluteremo ancora se sarete in questi schermi oppure magari andranno diversamente le cose solo il tempo ce lo dirai intanto io da casterdesk ti auguro in bocca al lupo e a tutti i ragazzi del team mi raccomando preparatevi perché sarà una giornata bella bella tosta ciao ciao che semifinale che semifinale non non mi aspettavo questo livello tanti veri errori portata e sporcizia però comunque ora c'è del tempo per sistemare ed arrivare fra un paio di giorni alla partita di nuovo che hanno avuto un po' più di tempo per prepararsi arrivando alla winner bracket e vincendo però comunque è tutto da rifare anche per loro perché sì la stessa squadra che hanno battuto un paio di volte anche in una best of five ma è tutto diverso come dicevamo gli underworld hanno fatto un percorso un po' un po' largo ok hanno fatto un po' più fatica si sono fatti veramente le ossa in questo caso voglio vedere a questo punto che cosa succede underworld siamo siamo aperti siamo tutti aperti per vedere la sorpresa che potrete portare in finale perché la finale tra l'altro sembra distante ma è effettivamente dietro l'angolo perché si tratta di poche giornate di differenza però mi raccomando mano al calendario perché il tempo passa velocemente poi c'è il relegation promotion per PG Nazi insomma ce n'è ancora di content da vedere assolutamente sì c'è ancora del tempo ma signori siamo arrivati alla fine siamo vivi ma ci siamo e manca solo una serie mi raccomando siateci noi dobbiamo prenderci un break perché abbiamo bisogno di andare mentale sì 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 abbiamo entrambi il letto dietro di noi ed è c'è un motivo perché è dietro di noi così non dobbiamo far strada letteralmente detto ciò noi vi diamo appuntamento alle finali che mi raccomando sono una giornata importantissima una giornata vietato 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 veramente perderla avete le finali di Proving Grounds che aspettiamo letteralmente dall'inizio dall'inizio di questo split martedì mi raccomando martedì le finali che aspettiamo nuovo contro Underworld è il giorno definitivo non dovremo più andare a fantasticare bet sì bet no ultima best of five finali Summer Split Proving Grounds noi vi diamo appuntamento a martedì sera sempre qui sui canali di PGE Sports alle 7 da Charlie Tavernello è tutto ci vediamo il finale buonanotte grazie a tutti